Ciao a tutti i driver, sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me! Oggi finalmente si torna qui su Adopt Me dopo ben due giorni di non pubblicazione, perché non ho pubblicato né venerdì né domenica. Purtroppo sono stata male in questi giorni, ma già mi sono ripresa, quindi si ritorna a pubblicare senza problemi e super carichi. Devo ancora decidere come sarà la pubblicazione di luglio e agosto, perché si sa la gente va a mare, non è a casa a guardare i video, non lo so come voglio fare. Voi fatemi sapere, già iniziando così all'inizio, giù nei commenti, fatemi sapere quando voi andrete in vacanza. O meglio, quando voi andrete a mare o in montagna o se non andrete in vacanza, fatemelo sapere un po' giù nei commenti, così io inizio a capire un po' come regolarmi. Uh, capello! Allora ragazzi, ma perché siamo qui su Adopt Me? Perché oggi andremo a scambiare i nostri farm egg. Siamo in un server ricco, vediamo se a qualcuno interessa il farm egg e se proprio non riusciamo a scambiarlo, che proveremo a cambiare server. Quindi se voi volete altri video del genere sotto questa melodia, la Pasqualos, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale, tappando la campanella, Instagram e TikTok li troverete giù in descrizione. Come giù in descrizione troverete anche il sito delle nostre magliette, il merch Never Stop Dreaming e Instagram Gaming Robux. Come sempre, il sconto. Allora, oggi ci connettiamo per il 289esimo giorno. Prendiamo i nostri 200 dollari e nonostante il fatto che io non mi sentissi bene, comunque ho continuato ad accedere ad Adopt Me. Quindi soltanto per questo, ragazzi, mi merito un premio e un mi piace. Siamo vicinissimi alla Futuristic Grapple e il Diamond Egg. Sarà sempre più lontano. Allora, ciao Unicorn, nel video, sì, in un video che ho registrato, per esempio, venerdì stavo bene, semplicemente non è uscito il video perché io avevo registrato questo video, dove è la casa, eccola. Avevo registrato il video dove ho comprato questa casa, lo abbiamo anche un po' arredata, ma poi non c'era il microfono. Quindi, vedete, stavo facendo la nuova casa. Quindi adesso qual è l'obiettivo? Riuscirò a ricreare... Picca, 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 ciù! Picca, 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 ciù! Picca... Va bene, scusatemi. Che cosa faremo? Arrederò tutta la casa. E poi proveremo... Uh, perché questo... Vabbè. Comunque arrederò tutta la casa e poi vi farò un tour della nostra nuova casina. Allora, andiamo al centro. Picca, picca, ciù! Picca... Ah, poi sì, ho fatto anche uno scambio. Ho scambiato, se riesco a farvelo vedere. Ho un diamond egg perché ho scambiato nove lavande con un diamond egg. Quindi se ci facciamo un conto, comunque l'ho pagato tantissimo. Ora non so che cosa voglio farci con questo uovo. Sicuramente è da provare a scambiare. Sicuramente è da provare a scambiare e capiremo che cosa fare. Poi sono in trattativa per quattro pozioni fly per una mucca e quattro pozioni ride per un elefante. Secondo voi ci stanno questi scambi? Fatemelo un po'. Sapete... Allora, no... Picca... Ok, chi può fare scambi con me? Tutti. Trade farm egg. Vediamo se a qualcuno interessa. A nessuno interessa un farm egg. Interessante. Super interessante. A nessuno interessa. Cioè, a te a nessuno interessano le uova in generale. Cioè, questa cosa l'ho sempre capito. Ok. Mr. Wick. Vediamo un po'. Ciao, Franci. Ok, un fan. Si chiama... Mr. Wick 589 Federico. Ciao, Franci. Oh, carina. Ma non credo che valga un farm egg. Anche se non ce l'ho. Però mi dispiace. Questo sta aggiungendo belle cose, ma non sono interessata. No, thank you. Ed è Natsu... 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 No... Thank you. Pensate che a qualcuno interessi... Se sei la vera, mostrami level. Facciamo così. Se mi segui, fratello, ti mostro il nome dorato. Non lo voglio far vedere. Se mi fai vedere level, sì. Ma ho il nome dorato. Cioè... Ragazzi, la prova non deve essere la prova per essere fan. No, la vera. Mi fai vedere questo pet. Dovete chiedermi di mettere il nome dorato. È quella la prova. Perché il level unico lo possono averle tutti quanti. Cioè, allora... Io seguo sempre i tuoi video. Lui mi... Aspettate, ragazzi. Ho un problema. Lui mi ha chiesto se può fare... Se può fare un'offerta per il farm egg. E io ho risposto... Guarda, in realtà io non faccio fan con... Non faccio thread con i fan. Fino adesso ha scritto... Io seguo sempre i tuoi video. Io ho scritto... Non faccio gli scambi con i fan. Scusa. Lui ha risposto... Ma non sono un fan. Manco ti seguo. Cioè... Ok. Oh, carini pet. Ma no... Thank you. Per un farm egg. Quanti farm egg ho? Proviamo noi. Allora, proviamo un attimo noi. Allora, vieni qui. Ha declinato. Tu. È già in trade. Poi? Poi, poi. Dove sono gli altri pet? Che avevo visto belli che volevo? Aspetta. Non lo trovo. Uffi, nessuno. Non ci sono pet che mi interessano. Cioè, a parte tutti gli altri. Cioè, qui abbiamo uno starter egg. Trading fly ride the pig. Trading mega golden unicorn. Mega... Mega non ho filo di leggere. I can give silly duck panda egg. Per cosa non lo so. Trade neon golden penguin. For neon queen bee. Luminous, please. I need more one to make... Vabbè, se da troppo in alto. Metto questo. Kanguro. Kanguro, 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 kanguro. Ad. Ad, ad. Ah, mi sono sorrino. No. Ce ne ho di king and guri. Voglio pet più interessanti. Proviamo a cambiare server. Facciamo così. Cambiamo server. Vediamo come va. Perché qui sono tutti attivi. Ok, ragazzi. È stato molto più veloce del previsto. Decisamente molto più veloce del previsto. Picca, picca, piccaccio. Picca, picca, piccaccio. Allora, vediamo un po' come la situa. Ok, abbiamo già una richiesta. Vai. Ok. No, grazie. Uh, per un farm egg. Dirà di no. Infatti. No, grazie. Mi piaceva la... No, grazie. Ok, vai con una richiesta. Vai con una richiesta. Oh, yes. Lamb. Golden rat. Ladybug. Red panda. Questo è un pet buono, ma tu... E il lamba, anche questi due, sono pet buoni. No, grazie. Lo scriveremo all'infinito? Lo spammeremo all'infinito? Vai così. Vai così. Wow, devi aspettare tre secondi prima di inviare un altro messaggio. Attivo. Pure la chat è cattiva. Lia, ferma lì. Sì. Questa è... È la cosa migliore. Sì. Dov'è la ragazza con la giraffa? Allora. Dammi un secondo. Non togliere il trade. Non togliere. Aspetta. Ti metto anche questo. No, aspetta. Stavo aggiungendo. Proviamo con te. No. Ok. Grazie lo stesso. Ti è indilissimo. Grazie. Ok, raga. Quindi abbiamo capito che di pet interessanti comunque, di pet buoni, per un farm egg non vengono dati. Ma tipo zero? Ci riprovo. Guarda, ci riprovo. Lia. Lilia. Sei cattiva. Sei cattiva. Tu, PC Squad. Tu, John Croc. John John Croc. No. Ok. John John Croc non è interessato. No, vabbè, non mi fa definire. In realtà volevo Peacock. Ok. Lo volevo mettere tra i preferiti. Poi, altri pet che potrei mettere tra i preferiti scambiabili. Ma volendo anche questo. Oh, è vivo. Ah, ha declinato. Ya, ya. Non mi declinare, John John. John Croc. John Croc. Non mi declinare, John Croc. Mi sono incastrata, ragazzi. Mi sono incastrata. John Croc, sei proprio cattivo. Quindi abbiamo capito che Cioè, le uova sono belle da aprire Non da scambiare Perché praticamente a nessuno interessano Cioè, non vedo persone Che comunque sono disposti a dare bei pet per l'uovo Lo capisco però Purtroppo lo capisco Perché Nonna, tu dici Mi tolgo un bel pet Mi tolgo il pet buono Mi tolgo una giraffa Per un uovo Che poi dalla quale potrebbe uscirmi una silly duck Lo capisco E c'hanno ragione Però Va bene Va bene È andata così Quindi a questo punto Io non so nemmeno Cioè, quando riuscirò a scambiare Jungle e Safari Leg 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 Probabilmente Non Non proverò nemmeno poi a scambiarli In server ricchi Li aprirò e basta Quello John 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 È davvero cattivo Abbiamo una richiesta Un attimo solo Per il farm egg Una tattol No, è stata tolta la tattol Un In realtà Questi sono proprio Ottimi come pet Soltanto Già ce li ho Per questo Io cerco pet Che no Lo so Molti diventi I franci Ma come Dai Però Non sono cose Che mi interessano No, grazie Il go-kart Nemmeno mi interessa Ma sei davvero Molto molto gentile Metti la giraffa Neon Ne accetto Questo sarei tentata Di accettarlo È mega E non si trova più Sono indecisa Sono indecisa un sacco Non lo so Va bene Lo scambio Sì perché Questo è il Robin Comunque non si trova più È mega E di far mag Ne ho ancora tre Quindi va bene Per questo Forse potrebbe aggiungere Qualcosina Non lo so Ma va bene Se a lei va bene Se lei rifà su ok Io rifaccio su ok Va bene Se a lei va bene Vado su Cioè Adesso cambia idea Adesso è lei che cambia idea Adesso è lei che cambia idea E mi frega Ok ragazzi Alla fine L'ho scambiato L'ho scambiato Perché questo mi piace tanto E poi me ne restano altri tre E questo è carinissimo Dai Il mega Robin È davvero carinissimo Un po' Strano Ed è anche fly Vero Dai ragazzi Guardatelo È carinissimo Ci sta Soprattutto se consideriamo Il fatto che il Robin Usciva dal Christmas egg Quindi secondo me Mi è andata bene Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Di questo scambio Ho sbagliato Avrei dovuto aggiungere Lei avrebbe dovuto aggiungere Qual è effettivamente Il valore Di un Fatemi sapere Giù nei commenti Qual è il valore Di un safari egg Di un fossil egg Di tutti gli egg Fatemelo sapere Un po' Giù nei commenti Lasciate un bel mi piace Se volete Altri video Dello genere E per Iscrivervi al canale Tappate qui sul pallino Mentre Per vedere altri video Procedenti sul mio canale Cliccate qui sulle miniature Io vi saluto E ci vediamo domani alle 15 Con un nuovissimo video Ciao 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 Ciao